benvenuti amiche e amici di vino divino un bel giorno ti svegli e guarda un po cosa trovi sul muro un bel po di muffa questa è muffa dovuta alla risalita dell'umidità ma venite qui stiamo risolvendo il problema chiaramente questo è uno dei primi step con questo apparecchietto fenomenale acquistato su amano tra l'altro molto di design guardate qui in un giorno e mezzo quanta acqua quanta umidità ha raccolto adesso subito dopo la nostra fantastica sigla parleremo di questo fantastico prodotto e care amiche soprattutto amiche ma anche amici che casalinghe persona che ci tengono alla cura della propria casa come sapete inizia l'inverno iniziano le piogge l'umidità inizia a penetrare all'interno della casa ci sono tantissimi rimedi che vi abbiamo fatto vedere nel corso del tempo uno di questi è ad esempio il sale delle bottiglie di plastica però se voi volete utilizzare un metodo un po più innovativo un metodo su prodotto economico vedete questo è il sale non vi diciamo bugie vedete anche noi inizia a gocciolare piano piano e il sale è completamente umido se volete utilizzare un metodo insomma un po più a livello estetico anche più funzionale e sicuramente anche un metodo di buona riuscita e risparmiare tanti soldini su amazon abbiamo acquistato questo piccolissimo deumidificatore davvero bello di design è molto 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 funzionale si chiama deumidi life spero di averlo detto bene anzi deumidi fai è un davvero molto bello come oggetto di design adesso ve lo faccio vedere si accende basta toccare touch costa all'incirca dei 30 e 40 euro quindi vi metteremo link amazon qui sotto ha una bellissima luce a led che si illumina adesso ve lo faccio vedere anche al buio è davvero un prodotto eccezionale cambia colore e tutto quello che vedete qui sotto è il risultato della cattura dell'umidità della nostra casa chiaramente quell'acqua non la buttiamo l'andremo ad utilizzare all'interno e il ferro da stiro insomma perché è un'acqua praticamente de mineralizzata si può anche spegnere alla luce di notte se vi dà fastidio vedete si spegne tranquillamente e soprattutto è un prodotto che fa veramente pochissimo rumore siamo un attimo in silenzio ecco proprio un rumore molto suave qui va bene anche nelle camere da letto magari quelle camere da letto esposte diciamo contro il sole camere da letto che solitamente sono un po più umide io questo è uno dei primi rimedi poi faremo faremo vedere gli altri rimedi che stiamo utilizzando per la contro l'umidità questo è uno dei primi interventi interventi rapidi va bene se vi è piaciuto questo video vi ringrazio per averlo visto vi ricordo che il link qui sotto amazon per poter acquistare questo fantastico prodotto sapete vi trovate molto bene con i consigli che vi dà vino di vino sui prodotti amazon facciamo una bella cerita di tutto ciò che vendono su amazon riproponiamo questi bellissimi video vi saluto vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando iscrivetevi numerosi al nostro canale commentato il link qui in basso